A.M. di Michele Aversa, azienda leader nella regione Campania per la fornitura di articoli antinfortunistici e di dispositivi di protezione individuali. A.M. di Michele Aversa, in via Lecinella 40, Mercato San Severino, 089 82 83 241. Maniamiche, associazione di volontariato con serie a Cava dei Tirreni, che oramai da anni con le sue ambulanze si occupa del prezioso servizio di trasporto degli ammalati, organizza il 34esimo corso di primo soccorso ed educazione sanitaria. Il corso è gratuito ed è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Inizierà domani, giovedì 6 ottobre alle ore 19. I desiderosi di apprendere innanzitutto teoricamente, per poi cimentarsi anche nella pratica come eseguire gli interventi di base e di pronti interventi, che talvolta in situazioni di emergenza si rivelano decisivi, sono ancora in tempo per presentare la domanda di iscrizione presso la sede dell'associazione Sita in Corso Mazzini. Sono previste due lezioni settimanali che si svolgeranno nella sala riunioni dell'associazione, e saranno tenute da medici specialisti ospedalieri, supportati dai volontari di Mane Amiche. Al termine della prima fase teorica, in programma un tirocinio che verrà ai corsisti impegnati in esercitazioni, nel corso delle quali potranno mettere in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni. Mane Amiche, dal 1992, si occupa del trasporto degli ammalati non solo a Cava, ma sull'intero territorio regionale ed anche nazionale. Il principio su cui si fonda è il servizio gratuito. Tali corsi sono l'occasione per avvicinare nuovi volontari all'associazione. Disporre di un maggior numero di volontari, infatti, è garanzia di maggiori e più efficienti servizi in sostegno degli ammalati che ne hanno bisogno. Per ottenere ulteriori informazioni è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo info-maniamiche.it Per ottenere ulteriori informazioni.it